Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo su Stealing the Diamond con il nostro caro amico Harry Stickman. Farò anche gli altri tre giochi, ok? Se l'avete visto bene, due milioni, dodici milioni di dollari. Aggressivo o snicchino? Ma ovviamente è aggressivo! Oh e per vostra informazione, avevo già fatto un video del genere su questo gioco, vero? Perché non l'ha visto? Dannazione! Wow, hai iniziato proprio bene! Kick! Ma dai! La maledizione, la pubblicità, ecco qua, tac, ecco, beh, almeno hai preso una delle guardie. Jump! Saltare da un veicolo in velocità non è una delle migliori idee. Allora, Ram! Oh, è un'altra cosa che dovremmo fare una delle scelte. Eto perché le scelte. Andiamo. Buona cosa il bidello che ha finito di pulire il pavimento. Potevi immaginare tutto, tutte le robe. Allora, mazza! Smettila! 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 Smettila di agganciarti su robe, fai qualcosa. Capita? Ok, la smetto. Lancia! Lancia! Justin! Sembra più difficile di quel che sembra. Scudo! Scudo! Oh no! Io sto fermo, eh. Andiamo! Non è troppo tempo per stare in giro. Allora, sacchetto! Lo sapevo che dovevi prezzare più attenzione alla classe di fisica. Allora, cavo! Crap! Due stelle! Vedo tutti... Riesco a vedere tutte le ore dei video giochi che stai giocando. Han proprio tagliato... Han proprio... Rob, ecco i tuoi riflessi... Aspe. Rob, ecco i tuoi riflessi... Rob! Ha! Ha! Pensavo... Hai pensato... Pensai veramente di... Di farcela? Allora... Sasso! Tra stelle! Tra stelle! Ai, ciocchino! Com'è tu che fai la stessa cosa, no? Lo sapevo. Boom! Headshot! Sicura in hate! Mi sono sempre chiesto come funzionano ste robe... Ma... Bolla! Ma... Signore! Ma... Se non... Se non collabora allora dovrò utilizzare la forza... Non mi me... Non... Non l'avete scelta, signor... Tizio, fa qualcosa! Ehm... Bride! Ah! Sano... Di solito funziona... Dra... Guida! Non pensavo... Non pensavo che andai molto veloce con quello... Diamante! Diamante! Hai vinto nella via aggressiva! Adesso voglio ritornare all'inizio e provare ad andare stavolta sneaky sneaky! Adesso... Andiamo... Adesso... Andiamo dall'alto... Ehm... Jumper Hooper! Perfetto! Perfetto... Allora... Fascia antigravinetta... Gravitazionale! Sei fortunato Volevi sempre Volevi da sempre andare nello spazio Allora te trasporto In questi giochi non è mai una buona scelta Allora Penny Tranquillizzante Falcon Punch Pillola dell'invissibilità Che cosa è successo? Ho perso le tue tracce Falco Punch Solo un uomo è capace di fare il Falcon Punch Allora tranquillizzante Ma che Wow Wow Vabbè Penny Non so sempre Drop Cap Porta di gun Uno là E uno là Mi butto C'è il vetro E' il vetro E' il vetro Laser cutter Laser cutter Si è stato tagliato Non sanguine C'è una scritta Il contraso Risposta Il laser Che Vabbè Non so come tradurlo Martello Martello Ok Io direi Il potere del formaggio Il potere del formaggio Cosa? Perché? Seriamente? Non ho letto in tempo Cannone Cannone Parapaparapa Pooo Ti sei quasi salvato Ti sei quasi salvato Quasi allora l'asse no allora spezza il collo diamante fucile assalto salta sono sorpreso che sei andato abbastanza avanti con quel diamante pesante allora fucile qua cavolo questi in questi in questi shooter da prima persona lo fanno sembrare molto più facile allora spezza il collo hai te l'ho detto te l'ho detto sulle te l'ho detto delle scale ma allora il diamante è l'ultimo hai vinto nella nella maniera non sospettante adesso ricordate che c'era anche la possibilità di andare attraverso il muro raggio restringente qua cavolo questi vermi sono molto più non so cosa da vicino liquificatore ti trasforma in un in una sostanza liquo liquo liquida che cosa pensavi che succedesse adesso il piccone minecraft for everyone c'era c'era qualcosa nella torta e sono stato licenziato infatti proprio schifo ti prego sta zitto sì quella conversazione poteva essere interessante non poteva essere interessante e sì l'ho fatto per fallire proviamo il fucile presto presto stai scherzando buona vero ragazzi ma allora la bomba ma perchè tengono delle bomme vere in un museo plano plano ok grande grande esposizione allora nel retro grazie c'è alieno pieni parco great ball o un fungo alieno grazie vai a prender sembra che non che non che non prendano i tuoi ordini piedi di parco ditemi la citazione a questo vi prego cavolo odio quando succede così great ball let's uh let's uh let's uh play pokemon ライ Ruston so cast plast due sergi avv Uo, dinosauro? Ma che cavolo sta succedendo? Io dico, cavolo sta succedendo. Da qualche parte nel Midwest c'entra il contenimento per caos. Il signore dovrebbe vedere questo. Sto ricevendo dei segnali di caos dal museo. Over nine? Sì. Solo premi uno di questi bottoni. Io torno al lavoro. Diviso zero? Ma cosa potrà mai essere? Uno, tre, tre, sette, 1337. Diviso zero? No! Scusate, ero solo al bagno ed ero... Dove sono andati tutti? La nucleare cosa farà? Ovviamente, la bomba nucleare. Non ti sentirei male. Ha probabilmente camperato per prendere le 25 kill per la nuke. Il satelte... Aspetta, la conosco questa? Può! Non potevo registrare. Allora... Gli ingranaggi. Può! Può! P journée! Ma! Ma! Oh mio Dio, 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 Dio. Oh, hai vinto nella maniera epica. Vabbè, penso di concludere qua, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, per non perdervi nessun altro video che pubblico, mettete like, scrivetemi nei commenti come aiutare a crescere il canale, e ci vediamo alla prossima volta, ciao!